ben ritrovati a un nuovo appuntamento con focus periferie buongiorno ancora valter buongiorno a tutti quanti valter cherubini consulta periferia milano ci troviamo in quello che apparentemente potrebbe sembrare un normalissimo giardinetto parco c'è anche i giochi per i bambini della nostra periferia siamo in quel di lambrate ma non è un giardino qualsiasi qui proprio dove siamo noi sorgeva una struttura una volta una casa una vera e propria che cos'era c'era la sede dell'antico comune di lambrate che è rimasto attivo appunto fino al 14 dicembre 1923 quando avvenne l'aggregazione all'allora comune di milano di lambrate unitamente ad altri dieci comuni della cosiddetti con termini cioè che confinavano con il comune di milano portando l'estensione geografica da 76 chilometri quadrati all'attuale sostanzialmente di 181 chilometri quadrati usciamo dal giardino ci troviamo in via conte rosso che con la mia principale diciamo la main street di lambrate che però ricordiamo non era solo queste quattro case qui intorno era uno forse degli undici comuni era uno di quelli belli grossi all'epoca comuni di lambrate aveva un'estensione piuttosto ampia direi che confrontandolo con l'attuale municipio tre che quello di riferimento circa metà del territorio quindi era era molto grande e anche è stato poi ecco qui siamo in via conte rosso che chiaramente è un po il cuore o il cuore storico di lambrate e diciamo così anche di qua della ferrovia o di là della ferrovia perché siamo proprio nella parte nord est di milano infatti tutti pensano lambrate le stazioni lambrate ma non è solo quello anzi lambrate si estende soprattutto dall'altra parte della ferrovia dall'altra parte della tangenziale e diciamo che ha mantenuto anche qui una vivacità sociale che deriva proprio da quei tempi quindi si è mantenuto l'aspetto diciamo così storico e anche monumentale edilizio si è conservato ma anche c'è un'attività sociale molto molto fervente proprio proprio fervida molto viva molto viva e questa realtà sociale molto fervente la possiamo incontrare proprio qui in conte rosso perché siamo di fronte a una delle sedi forse più storiche dell'acli della nostra città attraversiamo prima che passano le macchine fanno quest'anno i 75 anni 75 anni insomma hanno un po di storia alle spalle e qui davanti a trovarci non sono tre che passavano qui per caso ma anzi sono vincenzo casati presidente dell'acli giusto grazie mille prego di aver accettato il nostro invito attiglia cozzaglio sempre dell'acli di lambrate e l'assessore del municipio 3 valeria borgese appunto insomma qui è un luogo storico questo qui proprio cioè importante è un luogo che come diciamo rappresenta molto l'anima di lambrate no se dovessimo così spiegare un attimino lambrate che è uno degli undici comuni annessi nel 1923 quale sarebbe la caratteristica principale con cui potremmo descrivere lambrate beh direi che sostanzialmente è rimasto ancora un borgo di questo noi ne siamo molto contenti nel senso che c'è ancora una socialità trasversale che ci tocca da vicino noi cerchiamo di contribuire con il nostro circolo a questa questa possibile diciamo trasversalità tra le persone che frequentano i nostri quartieri quindi per noi questo direi che è un aspetto molto importante la socialità per noi è fondamentale quindi su questo lavoriamo ecco ma allora abbiamo fatto di società abbiamo fatto di circolo beh a questo punto allora entriamo all'interno del circolo acli di lambrate e scopriamo di più su lambrate su un municipio 3 di cui lambrate insomma è parte importante di questo municipio e di più infatti per capire ancora sempre meglio questo centenario degli antichi comuni andiamo e siamo qui dall'interno del circolo acli di lambrate come vedete insomma sembra anche di stare a milano bellissimo cioè un luogo di pace proprio questo com'è attilia questo circolo acli di lambrate è un luogo di grande accoglienza di grande ospitalità è accogliente negli spazi e nelle persone che lo frequentano e che sono un po di tutti i tipi anziani bambini gente che viene a fare ginnastica corsi e poi anche altre associazioni una cosa particolare del circolo è che ospita anche altre associazioni come vivi lambrate che è un'altra rete di associazioni o come l'associazione nazionale partigiani cristiani che ha qui la sua sede che viene ospitata per cui c'è tutta un'attività che è un'attività che nasce da un grande relazione di rete proprio tra sul territorio territorio parola fondamentale in questo caso parola fondamentale per questo centenario degli antichi comuni e come la parola anche lambrate ritorna spesso e volentieri è forte in quello che si fa qua cioè è un'identità forte quella di lambrate come è fatto a mantenere questa identità 100 anni e non dimostrarli come dire ma in questo caso sì ma allora questa identità di lambrate intanto lambrate è molto grande lambrate è sicuramente questa parte qui ma poi c'è l'ortica c'è il quartiere feltre c'è il parco lambro e all'interno poi si arriva fino al casoretto per dire il vecchio comune di lambrate era tutta questa cosa quando noi diciamo l'ortica in realtà l'ortica era una frazione di lambrate esattamente era una frazione di lambrate e il parco lambro erano le cascine erano un'area di cascine di lambrate che tuttora sono cascine molto vive e molto vivace con la cascina biblioteca ad esempio che è molto importante anche come luogo di anima non solo di accoglienza per le persone con disabilità ma di animazione sociale del territorio io direi che quello che caratterizza questo territorio è un po quello che di cui ha parlato il presidente delle acri cioè ci sono tante associazioni tante realtà anche economiche e sociali che che animano e che lavorano su questo territorio e quindi quello che ne fa uno degli aspetti principali che rende lambrate ancora così importante ancora un un borgo uno dei centri di milano di una milano policentrica è proprio questa vivacità sociale vivacità culturale ma tu un bellissimo assi sta prato di milano policentrico allora non posso che girarmi verso walter ne ha fatto spesso di milano policentrica la politica ne parla spesso in realtà è una cosa che ci torniamo indietro magari di 100 anni in un certo senso appunto la potevamo quasi ritrovare giusto walter ma direi che la possiamo riconoscere perché questo qui è proprio il tema ma la milano policentrica la riconosciamo anche se milano a tutta la gradazione di attenzione analoga al centro perché se tutta l'attenzione milano è centro centrica non c'è niente da fare ma lo diciamo proprio anche il tema dell'attrattività turisticamente possiamo dire che i negozi rimangono ormai aperti perché milano è diventato una città turistica anche a ferragosto se si va all'esterno ma forse nemmeno la circonvallazione un po' prima della circonvallazione se si va all'esterno cambia sicuramente il quadro della situazione allora la milano policentrica ha bisogno anche di occhi policentrici cioè tanti occhi gli occhi sono esattamente per quanto riguarda un territorio devono avere un'amministrazione policentrica da questo punto di vista il raccordo con il centenario che cos'è che ricorda ricorda che i territori che poi hanno portato a più che raddoppiare l'estensione territoriale di milano di questi 11 comuni che sono stati che vennero aggregati a milano avevano delle amministrazioni e quindi il sindaco di lambrate la cosa cui premeva in primo luogo era via conte rosso e quello che ci stava intorno è chiaro che con il 1923 essendo abolite le amministrazioni locali essendo portato tutto a palazzo marino è nell'ordine delle cose che il sindaco che sta a palazzo marino oggi come allora ha a cuore che cosa piazza della scala ed intorni ma questo qui è nella natura organizzativa quindi la riflessione fondamentale che c'è da porre e che noi poniamo nei confronti di questo centenario è proprio quel fatto che negli anni 68 69 venne introdotto il decentramento amministrativo per legarlo proprio come dissero i promotori di allora alla costruzione di una milano policentrica per quello che vennero istituite 20 20 consigli di zona all'ora proprio per avere 20 presidi amministrativi purtroppo nell'arco di questi oltre 50 anni l'abbiamo visto con i regolamenti che sono stati approvati ma mai attuati quel del 77 è rimasto lettera morta per 20 anni così anche quello del 97 per 19 anni quindi questo ha il cuore se la struttura sociale non ha una amministrazione che aiuta questa struttura sociale tutte le volte bisogna andare a palazzo marino non funziona il meccanismo lo vediamo e qui infatti nasce il nostro grande supporto ai municipi insomma siamo sempre il tifo per loro per sperare che insomma qualche cosa cambi qualche potere in più possa arrivare ai municipi in modo che veramente questi nove municipi che ormai compongono la milano totale siano veramente un interlocutore forte con cui parlare qui nell'acli quando si è qui al ciclo l'acli lambrate quando si entra si vede una bellissima mostra fondamentalmente una messa mostra fotografica sull'anima industriale che questa zona a quanto quest'anima industriale ha contribuito a rendere unica forse appunto la lambrate di oggi ma direi molto nel senso che consideriamo le grandi fabbriche che c'erano negli anni 60 70 fino agli anni 80 anche anni anche anni 50 quindi a partire dall'innocenti che sostanzialmente è la fabbrica che raccoglieva il maggior numero di lavoratori nel senso che c'erano 15 mila persone che tra l'altro alcuni abitavano già in quartieri ma soprattutto arrivavano dai paesi di periferia qua di milano quindi da pioltello da limito da melzo quindi treni la mattina si riempivano di pendolari e a piedi raggiungevano raggiungevano la zona di degli innocenti poi non dimentichiamoci della faema non dimentichiamoci della colomba ecco diciamo che da una realtà rurale quella degli anni 30 è diventata una realtà industriale nell'inizio degli anni 45 50 per poi essere dismessa completamente oggi come oggi è diventata un'area residenziale dove praticamente ci vivono parecchie persone quindi si è limitato questo discorso di industrialità a favore di quello che oggi l'insediamento direi di carattere residenziale commerciale ecco ha detto appunto industria può essere residenziale però bisogna dare un futuro a queste zone no e insomma sembra che questi di qualche idea c'è il futuro spera anche a discapio di molti che dico che non è così lo si da spesso ventieri con la cultura come fare con una realtà come lambrate come fare con ad incentivare appunto la cultura in una zona del genere ma allora io direi questo intanto lambrate si sta già caratterizzando come un hub culturale ad esempio c'è tutta la zona la zona di ventura dove c'è nell'ex faima dove c'è la scuola mool che è una scuola molto importante di cultura ci sono una serie di gallerie d'arte che collaborano e fanno delle delle presentazioni insieme in collaborazione quindi c'è sicuramente da promuovere e spingere queste queste realtà e poi direi che altro aspetto importante c'è il progetto della magnifica fabbrica della scala e anche questo sicuramente porterà un importante sviluppo culturale di questa zona c'è tutto il progetto di orme ortica memoria anche questo e poi ad esempio ultimo che stiamo costruendo in questo momento anche in collaborazione con le acli di lambrate c'è il museo urbano miracolo a milano perché in via valvassori peroni che dentro lambrate fu realizzato il set della baraccopoli del film di miracolo a milano e allora stiamo costruendo un percorso che va a ricordare questo film insieme alla biblioteca le acli insomma e quindi direi che stiamo lavorando molto sulla cultura ecco cultura anche memoria memoria anche le sedi ad esempio come abbiamo visto in altre puntate di focus periferire dei vecchi comuni qui a lambrate non c'è più questa fortuna valter cosa significa però appunto riuscire a salvaguardare invece quei luoghi che sono simbolo da una parte punto di questa storia ma dall'altra parte potrebbero essere anche poi utilizzati in altra maniera ma abbiamo fatto in questo periodo qui una quarantina di incontri in biblioteche associazioni focalizzando proprio l'aspetto del centenario degli antichi comuni sia avvalendoci di nuovi libri scritti pensiamo all'ultimo recente di edo bricchetti storie storie degli antichi borghi milanesi ma in particolare il tema di fondo che abbiamo notato è che i milanesi abbiamo incontrato circa 3.500 4.000 persone persone anche che vengono nelle biblioteche quindi hanno un certo tipo di sensibilità non sono quelli proprio che passano la strada magari disinteressati ma cercano di avere una conoscenza della propria città ecco abbiamo incontrato che i milanesi non conoscono milano quindi il tema del centenario è da una parte ciascuna anche antico comune cerca di focalizzare la propria realtà ma il tema vero è che invece deve esserci un passo ulteriore che quello di a partire dal proprio territorio cercare di far conoscere il territorio di tutta quanta la città altrimenti noi viviamo un po compartimenti stagni e risultato poi estremizzando il concetto è che chi sta bene sta bene e chi sta male sta male ma perché ma perché non conosciamo noi facciamo sempre un riferimento perché diciamo che bisogna un po imparare l'abc della geografia cittadina e allora partiamo con assiano poi possiamo dire anche basmetto possiamo dire cavriano assiano non lo conosce nessuno e però è l'estremo ovest di milano era comune fino al 1849 tra l'altro anche circa metà di proprietà pubblica quindi dove anche noi come pubblico con la 2a andiamo a pulire quelli che sono proprio discariche abusive costanti quindi un bilanese che non sa che c'è assiano e sappia però che ci mette qualche soldino delle proprietasse per andare a pulire ecco adesso ho estremizzato il concetto ma è interessante quello dei musei diffusi perché noi ne abbiamo sul territorio periferico 26 pensiamo al museo della macchina da scrivere ma anche tantissimi altri quindi sono sconosciuti proprio agli abitanti poi ci sono anche i turisti ma è gli abitanti che devono conoscere ma didatticamente non è insegnata la storia di milano appunto dal 1873 al 1923 i milanesi non conoscono milano i milanesi conoscono bene l'acchi di lambrate ma perché magari così dorme un po nel buio diciamo facciamolo conoscere meglio come si può fare a scoprire meglio quello che fate e cosa fate durante l'anno per appunto la cittadinanza non solo di lambrate a quel punto noi stiamo lavorando da tempo sul tema della memoria soprattutto con le scuole e con i nuovi abitanti del quartiere questo è un quartiere che sta diventando ancora più residenziale e lavoriamo qui alle acli facciamo questi incontri sul tema della memoria e sulla storia del quartiere però per venire con noi a conoscere questo quartiere un po da tutta milano organizziamo ormai da tempo con vivi lambrate come circolo le camminate camminate urbane dove siamo andati a vedere i dintorni del nostro quartiere abbiamo fatto i confini per scostruire i confini di cento anni fa di questo comune ma siamo andati a vedere le marcite al parco lambro le vecchie fabbriche abbandonate i luoghi dove c'erano i mulini come dicevamo delle volte ridendo andiamo magari in cento a vedere un posto dove non c'è più una cosa ma raccontarla e a farla raccontare dalle persone che l'hanno vissuta che fossero le vecchie fabbriche o l'agricoltura o gli alberi di peremele dell'ortaglio della zona quindi per collegarsi per conoscerci è molto semplice circolo acli di milano l'ambra di il circolo acli di lambrate oppure vivi lambrate mettete su internet e trovate subito va bene perfetto allora io devo ringraziare per l'ospitalità appunto l'acli di lambrate io starei quattro pomeriggio sta benissimo è bellissimo qua poi c'è anche il bar io ho trovato arrivano i giocatori di carte arrivano anche i giocatori di carte posso mancare se la volta buona che magari imparano a giocare a carte dai deve essere una buona volta grazie davvero grazie mille per l'ospitalità grazie al municipio per aver partecipato grazie a tanti tutti tanti so quanti quanti soci siete una marea 800 è un circolo di 800 soci veri nel senso che tutti gli anni si rifare decidono di rifare la tessera con noi e vi vedete fateci un giro guardate la porticina è piccola dovete per forza ma dentro bravi ma venite dentro non abbiate paura non vi guardano male è bellissimo c'è il mercatino del libro ci sono c'è veramente veramente un posto magico a qui a milano valte grazie anche a te come sempre perché insomma grazie a per la tua consulta periferia in milano e non solo appunto scopriamo tanti bei luoghi di questa città ci vediamo nel prossimo comune noi da bene e allora anche con voi al prossimo comune sempre qui a focus periferia e sempre qui su milano news ciao